Ciao amici di Playa Latina Web TV, siamo Claudio Loretta di Salsa Caribe Dance, una scuola di Ravenna di balli caraibici e non solo. Vi vogliamo far vedere una carellata delle figure che abbiamo fatto durante questo percorso di studio, almeno fino adesso. Passo la parola alla Loretta. Sì, dai, li mettiamo tutti quanti insieme così stasera quando andate a ballare sulla pista anche voi vi scatenerete in questa salsa. Allora facciamo che tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Bravo te. Quindi cominciamo da una posizione chiusa e cominciamo a fare la nostra base mambo, via. Uno, due, tre, cinque, un'altra base. Uno, due, tre, un cross chiuso. Uno, due, tre, cinque, sei, base. Uno, due, tre, cross, check. Uno, due, tre, cinque, sei, sette. 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 Uno, due, tre. vuelta a destra ancora, 1, 2, 3, 5, 6, 7, check, 1, 2, 3, vuelta a sinistra, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, mambo, 5, 6, 7, check, 1, 2, 3, vuelta a sinistra e abbiniamo la mambo, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, come avete visto per ballare ne abbiamo fatte tantissime, quindi tranquilli, provate, divertitevi e ballate tutta la sera. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.